Sabato che precede l'alluvione del 94 io avevo ancora mia mamma che abitava qui e sono venuto a trovarla, c'era già Tannaro che faceva un rumore si sentiva appunto dalle case del paese e mia mamma era preoccupata ma dico guarda che qui non arriva Tannaro, puoi stare tranquilla e poi alla notte ha fatto il disastro in varie località noi fortunatamente siamo stati fuori però qualcuno purtroppo è morto addirittura Grazie a tutti 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 Grazie a tutti